Mi dissero uno se ero di Svizzera e gli dico no, non sono Svizzera, però non avrei cambiato lo stesso nome. E invece no, Luciano Casini, gestore del ristorante Il Chiasso e un elbano doc, capoliverese con la passione per la cucina, apre il suo locale nel 1973. Da allora molto è cambiato. I primi anni erano quasi tutti tedeschi, poi dopo ho cominciato con gli italiani e adesso lavoro quasi esclusivamente con gli italiani. Questi tavoli ci sono sempre stati dal 1973, questo qui l'ho comprato dieci anni dopo. Di personaggi pubblici Luciano Casini ne ha visti davvero tanti, lo potete vedere in queste foto appese all'interno del suo locale. Antonacci si è uno degli amici che ho, che viene tuttora, perciò un carissimo amico. Anche Pino è stato, io, Lucio Dalla, Pino, tutti veramente amici, amici veramente cari, veramente vicini. Luciano è stato il primo cuoco del suo ristorante. Adesso da un paio d'anni il proprietario del Chiasso ha lasciato la sua cucina a dido torinese, ma ormai trapiantato all'elba. Di certo mai ha pensato modificare i piatti che da sempre caratterizzano il suo locale. La minestra di polpo è un polpo che viene lessato, fatto a pezzettini, poi viene messo dopo insieme al porro, viene un po' stofato e poi ci si mette le patate e il rosmarino piccolo. E poi ci si mette l'acqua del polpo dove è lessato. E poi c'è quest'altro piatto che faccio da sempre, è questo mister Luciano che è una zuppa di pesce con diversi tipi di pesce. E poi gli spaghetti chiamati da noi la sessuale fatta con le uova di pesce, che normalmente quello che troviamo può essere pesce spada, ricciole e tutto quanto. Questa salsa viene preparata semplicemente con olio, aglio e brodo, fatta andare queste uova e poi vengono frullate. Ricca anche la cantina, Fausto Ambrogi, secondo cuoco, ce la fa visitare. Attenzione particolare per i vini naturali. La gente comincia a capirlo, però si cominciano a vendere un po' più di prima. Prima era soltanto proprio per una nicchia, ora il vino naturale è abbastanza ricercato, perché comunque la gente è anche curiosa ad assaggiare.